Ehi ragazzi, pronti per un tuffo nei nuovi incredibili colpi di scena di Endless Love, allacciate le cinture, perché la puntata che andrà in onda giovedì 24 ottobre su Canale 5 promette fuochi d'artificio. Se pensavate che le cose non potessero farsi più complicate, beh preparatevi a essere smentiti. Immaginate la scena, Emir trova il diario segreto di Nihan. E cosa fa? Invece di leggerlo e scoprire tutti i suoi pensieri più profondi, decide di distruggerlo. Ma perché? Forse teme che qualcuno possa metterci le mani sopra? Magari Kemal? Le domande sono tante e le risposte potrebbero essere ancora più sorprendenti. Nel frattempo, il nostro eroe Kemal non si dà per vinto. Con un colpo di genio, si intrufola in ospedale fingendosi un operatore sanitario. Riuscirà a raggiungere la stanza di Nihan senza farsi scoprire? E soprattutto, come reagirà a lei quando se lo vedrà davanti? Le emozioni sono alle stelle. E non è tutto. Asu è nei guai fino al collo. Emir scopre che gli ha mentito riguardo a quella fatidica notte dell'incidente di Sezin. Lei aveva detto che Kemal era con lei, ma non era vero. La reazione di Emir? Furioso come non mai, la minaccia senza mezzi termini. Riuscirà Asu a tirarsi fuori da questa situazione? Ma aspettate, c'è di più. Kemal arriva giusto in tempo per salvare Asu dalle grinfie di Emir. E in un impeto di rabbia tenta di soffocare il suo acerrimo nemico. Immaginate la tensione. Sarà Asu a fermarlo, convincendolo a non sporcarsi le mani. Ma per quanto tempo riuscirà Kemal a trattenere la sua sete di vendetta? Emir, dal canto suo, non resta a guardare. Decide di vendicarsi di Asu in modo subdolo. Le impedisce di vedere sua madre, Mujgan. Che tipo, eh? E come se non bastasse, piazza una telecamera nascosta in un orsetto nella stanza di Nihan per spiare ogni sua mossa. quanto può essere meschino? E intanto Zeynep cerca di rifarsi una vita. Trova lavoro in una caffetteria e sembra che le cose stiano finalmente girando per il verso giusto. Ma ecco che Akan le propone di trasferirsi a casa sua. Che intenzioni avrà? Zeynep inizialmente rifiuta, ma poi cambia idea quando scopre che l'ispettore possiede un bottone trovato nella stanza dove è stato rinvenuto il corpo di Ozan. Che mistero si cela dietro questo oggetto? Facciamo un attimo il punto della situazione. Nelle puntate precedenti, Leila ha iniziato a sospettare di Ayan dopo che Vildan le ha rivelato alcuni dettagli poco piacevoli sul suo passato. Scopre che è stato in prigione per furto, ma Ayan si dichiara innocente. A chi credere? Questa situazione potrebbe mettere a rischio non solo la loro amicizia, ma anche qualcosa di più profondo. E poi c'è il matrimonio tra Kemal e Asu. Un'unione basata sull'interesse e un vero matrimonio di convenienza per mettere le mani sulle quote dell'azienda di Emir. Ma giocare con i sentimenti è sempre pericoloso. Asu sembra davvero innamorata di Kemal, ma lui prova gli stessi sentimenti o sta solo usando lei per i suoi scopi? Non dimentichiamo Feime che ha scoperto che la piccola Denise è sua nipote, ma ha scelto di tenere il segreto per sé. Quanto potrà durare questa situazione? E cosa succederà quando la verità verrà a Galla? Immaginate lo shock di Kemal nel scoprire di essere padre. Le tensioni tra Emir e Kemal sono alle stelle. I due sono in una lotta continua, non solo per il potere e il denaro, ma anche per l'amore di Nihan. Questa rivalità li porterà a compiere gesti estremi, mettendo a rischio non solo loro stessi, ma anche le persone a loro care. E Nihan, intrappolata in una vita che non ha scelto, controllata da un marito manipolatore e ossessivo. Riuscirà a liberarsi dalle catene di Emir e a riunirsi con il suo vero amore, Kemal, ma soprattutto riuscirà a proteggere la sua bambina da tutta questa follia. E parlando di bambini, che ne sarà della piccola Denise? Il suo futuro è al centro di questa battaglia tra adulti. Se la verità sulla sua paternità venisse a Galla, come cambierebbero gli equilibri. Nel frattempo, Zeynep sembra essere sempre al centro di situazioni complicate. La sua decisione di accettare l'offerta di Hakan potrebbe metterla in una posizione pericolosa. L'ispettore ha davvero buone intenzioni o c'è qualcosa di oscuro dietro? E quel bottone trovato nella stanza di Ozan potrebbe essere la chiave per scoprire la verità sulla sua morte? Insomma, gli intrighi si fanno sempre più fitti e le emozioni sono alle stelle. Endless love. Ci tiene con il fiato sospeso e non vediamo l'ora di scoprire come si evolveranno queste storie intricate. Ogni personaggio ha i suoi segreti, le sue paure e i suoi desideri. E questo rende la trama così avvincente. Allora, che ne pensate? Quali saranno le prossime mosse di Emir? Kemal riuscirà a smascherare i suoi piani? E Nihan come reagirà a tutto questo caos? Avete qualche teoria su ciò che potrebbe accadere? Forse Kemal e Nihan riusciranno finalmente a riavvicinarsi? Dopo tutto quello che hanno passato, tra intrighi, bugie e ostacoli di ogni genere, il loro amore potrebbe finalmente avere una chance di brillare come una volta? Oppure Emir metterà in atto qualche altro piano malefico per separarli definitivamente? Con la sua mente astuta e manipolatrice, potrebbe avere in serbo nuove trappole per impedire che i due si ritrovino. E Asu? Dopo aver mentito a Emir riguardo a quella notte cruciale, la sua situazione è davvero critica. Si trova in una posizione pericolosa, stretta tra le minacce del fratello e i suoi sentimenti contrastanti per Kemal. Riuscirà a uscire da questo pasticcio senza subire gravi conseguenze? Forse cercherà di redimersi o di allearsi con qualcuno che possa aiutarla? E quale sarà il ruolo di Kemal in tutto questo? Continuerà a lottare con tutte le sue forze per svelare la verità e proteggere le persone a cui tiene o le nuove complicazioni lo porteranno a prendere decisioni inaspettate? Le tensioni sono alle stelle e ogni personaggio sembra camminare su un filo sottile. Le alleanze potrebbero cambiare, i segreti potrebbero essere rivelati e le emozioni potrebbero raggiungere il culmine. Non possiamo fare a meno di chiederci quali sorprese ci riserveranno le prossime puntate. Riuscirà l'amore a trionfare sulle macchinazioni e sulla vendetta? O il destino avrà in serbo altri colpi di scena che cambieranno per sempre le vite dei nostri protagonisti? Una cosa è certa, l'attesa si fa sempre più emozionante e non vediamo l'ora di scoprire come si evolveranno queste storie intrecciate. Le prossime puntate saranno un vero tornado di emozioni. Non potete assolutamente perdervi quello che sta per accadere, quindi mettetevi comodi e ascoltate attentamente fino alla fine. Ci sono colpi di scena incredibili che vi lasceranno a bocca aperta. Iniziamo subito con un'anticipazione che vi farà saltare dalla sedia. Ci saranno attimi di tensione altissima tra Feime ed Emir. La nostra Feime non riuscirà più a sopportare le manipolazioni e le macchinazioni di Emir, soprattutto per come continua a creare problemi ai suoi figli. Quando finalmente i due si troveranno faccia a faccia Feime, presa da un impeto di ira, sarà pronta a schiaffeggiarlo. Ma cosa succederà? Ci sarà Tarik a fermarla appena in tempo, evitando così una situazione che potrebbe avere conseguenze disastrose. Ma non è tutto. Tenetevi forte perché Kemal finirà in prigione. Sì, avete capito bene. Emir riuscirà nel suo intento. Farà arrestare Kemal con l'accusa di aver rapito Deniz. La situazione per Kemal si complicherà notevolmente. Anche se sa di aver agito in buona fede, visto che Deniz è sua figlia, legalmente la bambina è ancora considerata figlia di Emir. La denuncia potrebbe portarlo a restare in carcere per molto tempo. Come reagirà Kemal a questa ingiustizia? E riuscirà a dimostrare la verità? Nella vicenda saranno coinvolti anche Feime e Huseyin, perché Kemal aveva pianificato di affidare a loro la bambina per portarla all'estero. Quando verrà interrogato da Hakan, Kemal si prenderà tutte le responsabilità, dichiarando di aver organizzato tutto senza coinvolgere i suoi genitori. In questo modo, spera di scagionarli e di proteggerli dalle conseguenze legali. Un gesto davvero nobile che mostra ancora una volta la grandezza del suo cuore. Ma c'è una luce in fondo al tunnel. Hakan suggerirà a Kemal di cercarsi un buon avvocato, ma lui inizialmente rifiuterà, deciso a raccontare al giudice come sono andate realmente le cose, forse sperando in un atto di clemenza. Ma attenzione, perché entrerà in scena Zera? L'avvocatessa, che ormai non lavora più per Emir e ha ripreso la sua relazione con Zaire, si offrirà di aiutarlo. Vorrà cogliere questa occasione per dimostrare a Kemal che può fidarsi di lei e potrebbe avere la soluzione per tirarlo fuori dal carcere. Zera incontrerà Kemal nella sua cella e Ghali esporrà il suo piano. Se vuole veramente uscire di prigione, devono presentare immediatamente la richiesta per il riconoscimento di paternità. Devono farlo prima del processo per il presunto rapimento. Così il giudice potrà comprendere le motivazioni che lo hanno spinto a compiere quel gesto. Riuscirà Kemal a fidarsi di lei? E soprattutto, questo stratagemma funzionerà? Non perdetevi i prossimi minuti per scoprirlo. Nel frattempo, fuori dal carcere, la tensione è alle stelle. La famiglia di Kemal attende con ansia notizie sul suo destino. La più furiosa è Feime, che sfogherà tutta la sua rabbia su Emir, accusandolo di allontanare sempre di più la sua nipotina. In commissariato, la situazione si farà incandescente quando Feime vedrà Emir accanto a Zeynep. Questo dettaglio farà esplodere la sua ira. «Allontanerò mia figlia da te!» griderà Feime con determinazione. Ma Emir, con il suo solito atteggiamento sprezzante, le risponderà. «Questo accadrà solo nei suoi sogni». Feime, incapace di trattenere la frustrazione, sarà pronta a schiaffeggiarlo. Per fortuna, Tariq interverrà appena in tempo, bloccando la mano della madre. «Mamma, lascialo andare, non prenderti colpe che non hai». Ma Emir non si fermerà qui e continuerà a provocarla. «Farò costruire una mia statua nel suo giardino, così avrà modo di allenarsi a schiaffeggiarmi». Una frase che farà infuriare ancora di più Feime, che gli urlerà «Sei il diavolo!». Ma quali saranno le conseguenze di questo scontro? E come reagirà Zeynep nel vedere sua madre Emir in questa situazione? Le dinamiche familiari sono sempre più complicate e il clima è teso come non mai. E non dimentichiamo che mentre tutto questo accade, Nihan è tormentata dai sensi di colpa e dalle preoccupazioni per Kemal. Riuscirà a trovare un modo per aiutarlo? E Deniz scoprirà mai la verità sul suo vero padre? Nel frattempo, Zehir è alle prese con le sue vicende personali. La sua relazione con Zera è nuovamente in bilico a causa delle scelte che stanno per fare. Saranno in grado di superare le difficoltà e restare uniti? E quale ruolo giocheranno nella liberazione di Kemal? Ma c'è ancora di più! Galip continua a tramare nell'ombra e il risveglio di Muggan potrebbe sconvolgere tutti i suoi piani. Quali segreti sta cercando di nascondere? E come influirà tutto questo sulla guerra tra Kemal ed Emir? E poi c'è Akan, che si trova in una posizione delicata. Da una parte deve fare il suo dovere come ufficiale di polizia, dall'altra è coinvolto emotivamente nelle vicende dei protagonisti. Che decisioni prenderà? E sarà un alleato o un ostacolo per Kemal? La nostra cara Zeynep è in un mare di guai e questa volta sembra che non ci sia via d'uscita. È sempre più convinta di essere lei l'assassina di Ozan e questo peso la sta schiacciando. Ogni notte è tormentata dai sensi di colpa, non riesce a dormire, a mangiare, è un vero disastro. E come se non bastasse, Akan ha delle prove che potrebbero incastrare il colpevole e lei lo sa benissimo. Ma Zeynep non è tipo da arrendersi facilmente. Decide di prendere in mano la situazione e chiede aiuto a Tariq. Devi entrare in casa di Akan, prendere quelle prove e farle sparire, Gilli dice con tono deciso. Tariq, anche se un po' titubante, alla fine accetta. Dopotutto, cosa non si farebbe per aiutare una sorella in difficoltà? E indovinate un po'? Tariq riesce nell'impresa. Entra di nascosto nella casa di Akan, trova le prove nascoste nel cassetto della camera da letto e le distrugge. Pensa di aver risolto tutto, ma le cose non sono mai così semplici, vero? Quando Akan scopre che le prove sono sparite, va su tutte le furie e chi pensa che sia stato a rubarle. Ovviamente Kemal. Tra i due scoppia una lite furibonda, con accuse che volano da tutte le parti. Akan Glee dice che, anche se le prove sono sparite, lui ha ancora un asso nella manica. Un bottone trovato nella stanza di Ozan, con delle impronte digitali che la polizia sta analizzando. Presto sapremo chi è il vero colpevole, Glee dice con uno sguardo enigmatico. Nel frattempo, Zeynep è nel panico totale. Sa benissimo che quel bottone appartiene a lei, è della camicetta azzurra che indossava il giorno della morte di Ozan. La paura la assale, non sa più cosa fare. Ogni minuto che passa potrebbe essere fatale. Anche Kemal inizia a sospettare qualcosa. Ripensa a quel giorno e ricorda di aver visto Zeynep con quella camicetta. Decide di andare a casa dei genitori per cercarla nella sua stanza. Fruga ovunque, ma la camicetta non c'è. Questo alimenta i suoi dubbi. Cosa mi stai nascondendo, Zeynep? Si chiede preoccupato. Zeynep, disperata, non vede via d'uscita. Dopo una notte insonne, prende una decisione drastica. Vuole togliersi la vita. Aspetta che a canesca per andare al lavoro. Chiude tutte le finestre e le porte. Inserisce la catenella per essere sicura che nessuno possa entrare. Fa una lunga doccia, forse per lavare via i suoi peccati, poi sale su uno sgabello, lega una corda al soffitto, se la mette intorno al collo e si lascia andare. Ma il destino ha altri piani. Proprio in quel momento Kemal decide di andare a casa di Hakan. Non per vedere Zeynep, visto che i loro rapporti sono tesi, ma per cercare la camicetta azzurra. Arriva alla porta e trova tutto chiuso. Chiama Zeynep, ma nessuna risposta. Un brutto presentimento lo assale. Prova ad aprire con la chiave, ma la catenella glielo impedisce. «Zeynep, sei lì? Apri!» grida preoccupato. Senza pensarci due volte, forza la porta. Quello che vede all'interno lo lascia senza fiato. Zeynep appesa al soffitto. Senza perdere tempo, corre verso di lei, la solleva e taglia la corda. «Zeynep, rispondimi!» urla disperato. Chiama immediatamente un'ambulanza. Il tempo sembra essersi fermato. Riuscirà a salvarla? Ma le sorprese non finiscono qui. Mentre Zeynep lotta tra la vita e la morte, altri personaggi entrano in gioco. Nihan, notando il comportamento strano di Kemal, decide di parlargli. «C'è qualcosa che non va?» Ghelli chiede con dolcezza. Kemal, inizialmente restio, alla fine le racconta tutto. Nihan rimane sconvolta. «Pensi davvero che Zeynep possa essere coinvolta?» chiede incredula. Akan, intanto, è deciso a scoprire la verità. Si reca alla polizia per sapere a che punto sono le analisi sul bottone. L'attesa è snervante. Quando finalmente riceve i risultati, scopre che le impronte appartengono a Zeynep. «Non posso crederci», mormora. Decide di andare in ospedale per affrontarla. All'ospedale, Zeynep si risveglia. Vede Nihan al suo fianco. «Perché sei qui?» chiede debolmente. «Sono qui per aiutarti», risponde Nihan. Zeynep scoppia in lacrime. «Ho fatto un errore terribile!» Nihan la abbraccia. «Insieme troveremo una soluzione!» Kemal arriva e trova Akan che cerca di entrare nella stanza di Zeynep. «Dove credi di andare?» Jay li chiede. «Devo parlare con lei», risponde Akan. «Non ti permetterò di avvicinarti a mia sorella», ribatte Kemal. «La tensione è alle stelle». Nel frattempo, Tariq è tormentato dai sensi di colpa. Decide di confessare tutto a Kemal. «È colpa mia, ho aiutato Zeynep a eliminare le prove», ammette. Kemal è furioso. «Come hai potuto?» Ma capisce anche che deve proteggere sua sorella. La situazione è sempre più complicata. I sentimenti si intrecciano, le emozioni sono al limite. Ognuno ha i suoi segreti, le sue paure. E mentre tutti cercano la verità, una domanda rimane. Chi ha veramente ucciso Ozan?» E voi, siete davvero pronti a scoprire come andrà a finire? Se pensavate di aver visto tutto, vi sbagliate di grosso. Le prossime puntate saranno un vero concentrato di suspense, drammi e colpi di scena che vi terranno incollati allo schermo. Ogni minuto sarà cruciale, ogni dettaglio potrebbe svelare un segreto nascosto o cambiare il destino dei protagonisti. Zeynep riuscirà a dimostrare la sua innocenza o sarà schiacciata dai sensi di colpa e dalle accuse che le si stanno stringendo attorno. Kemal e Nihan, che sembrano destinati a stare insieme, riusciranno a superare questa crisi devastante o le tensioni saranno troppo forti? E poi c'è Akan, sempre pronto a sorprendere. Quale sarà la sua prossima mossa? Starà dalla parte della verità o userà le informazioni che ha per i suoi scopi personali. Non resta che aspettare, ma una cosa è certa. Non potrete staccare lo sguardo neanche per un istante. So che molti di voi sono in trepidante attesa di scoprire cosa accadrà nelle ultime puntate della seconda e ultima stagione. E credetemi, ci sono dei colpi di scena che vi lasceranno senza fiato. Prima di tutto pensate a tutto quello che è successo finora. Abbiamo seguito le vicende di Kemal e Nihan, il loro amore tormentato, le interferenze di Emire e gli intrighi che hanno reso la loro storia così appassionante. Ma ora le cose stanno per cambiare drasticamente. Immaginatevi questo. Due dei personaggi più importanti della serie perderanno la vita. Sì, avete capito bene. Kemal, il nostro eroe, morirà a causa di un'esplosione di una mina. Un evento scioccante che nessuno di noi avrebbe mai voluto vedere. E come se non bastasse, anche Leila ci lascerà, avvelenata da Asu con una puntura che non le lascerà scampo. Vi chiederete, come potrà Nihan affrontare tutto questo? Si ritroverà da sola a dover crescere la piccola Deniz senza l'amore della sua vita e senza l'appoggio di Leila. Un peso enorme sulle sue spalle. Ma conoscendo la forza di Nihan, sapete che non si arrenderà facilmente. E mentre Nihan cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita, Emire continua con le sue ossessioni. Nonostante ottenga il divorzio, non smetterà di perseguitare Nihan e Deniz. Ma c'è di più. Emire sposerà Zeynep. Sì, avete sentito bene. Zeynep rimarrà nuovamente incinta di Emire e i due decideranno di sposarsi. Una mossa inaspettata che lascerà tutti a bocca aperta. Ma le cose non andranno come previsto. Zeynep, nel tentativo di salvare la vita del fratello che Malda, uno dei piani malvagi di Emire, avrà un incidente stradale e perderà il bambino. Un colpo durissimo per lei. E come reagirà Emire? Deciderà di lasciarla, abbandonandola nel momento del bisogno. Zeynep sarà costretta a tornare dai suoi genitori, sola e disperata. Intanto Tariq finirà in prigione. Un altro duro colpo per la famiglia. Come influenzerà questo evento la dinamica familiare? Saranno in grado di superare anche questa prova? E quale sarà il destino di Tariq? Riuscirà a trovare una via di redenzione o resterà intrappolato nelle sue scelte sbagliate? Ma non tutte le notizie sono negative. C'è un raggio di speranza quando Mugan si risveglia dal coma. Diventerà uno dei personaggi principali della soap, portando nuove dinamiche e intrecci nella trama. Siamo tutti curiosi di vedere come il suo ritorno influenzerà gli altri personaggi. E in mezzo a tutto questo caos, almeno una buona notizia. Zeyhir e Zera finalmente riusciranno a stare insieme. Una coppia che abbiamo sostenuto sin dall'inizio e che finalmente vedrà realizzato il proprio amore. Un piccolo sollievo in una trama così carica di tensione. Ma torniamo a Kemal. Ricordate quando sospettava che Deniz potesse essere sua figlia? Ebbene, grazie a un esame del DNA avrà la conferma tanto attesa. Un momento emozionante che aspettavamo da tempo. Niang Yi confesserà che ha sempre voluto dirgli la verità, ma che è stata costretta a tacere per le minacce di Emir. Pensate, Emir era pronto a buttare la piccola Deniz da una scogliera pur di mantenere il segreto. Una dimostrazione di quanto possa essere crudele e spietato. Questo porterà a un riavvicinamento tra Kemal e Nihan? Riusciranno a superare le difficoltà e a costruire una vita insieme, nonostante tutto quello che è successo? Ma con la morte di Kemal all'orizzonte, le cose sembrano destinate a un finale tragico. E Zeynep verrà arrestata per aver soffocato Ozan. In un gesto estremo si sacrificherà al posto del fratello, un atto di amore o di disperazione. Quando Nihan lo scoprirà, tenterà di strangolarla, accecata dalla rabbia e dal dolore. Questo causerà una frattura insanabile tra Nihan e Kemal, rendendo ancora più complicata la situazione. Vi starete chiedendo, c'è speranza per questi personaggi? Ci sarà un lieto fine o saranno tutti destinati a soffrire? Le ultime puntate di Endless Love promettono di essere cariche di emozioni, colpi di scena e momenti indimenticabili. E mentre ci avviciniamo al gran finale, non possiamo fare a meno di riflettere su quanto questa serie ci abbia coinvolto. Abbiamo vissuto insieme ai personaggi, ci siamo affezionati a loro, abbiamo sofferto e gioito con loro. E ora siamo sul punto di scoprire come si concluderà questa straordinaria storia. Quindi non perdetevi i prossimi episodi. Restate sintonizzati sul canale perché continueremo a seguire ogni sviluppo, ogni sorpresa, ogni emozione che Endless Love ha ancora in serbo per noi. Prima di concludere vorrei sapere cosa ne pensate voi. Quali sono le vostre teorie sul finale? Credete che ci sia ancora speranza per Nihan? Come pensate che reagirà alla morte di Kemal? E Zeynep troverà una via per redimersi? Lasciate i vostri commenti qui sotto. Mi piace leggere le vostre opinioni e discutere insieme delle possibili evoluzioni della trama. È incredibile come una serie possa unire così tante persone e creare una comunità appassionata come la nostra. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale. In questo modo non vi perderete nessuno dei prossimi aggiornamenti su Endless Love e sulle altre serie che seguiamo insieme. Grazie per aver passato questo tempo con me. È sempre un piacere condividere con voi le emozioni e le sorprese che queste storie ci regalano. Ci vediamo al prossimo video. Pensate a tutte le emozioni che abbiamo vissuto insieme a Kemal e Nihan, alle sfide che hanno affrontato e agli ostacoli che hanno superato per stare insieme. E ora, mentre ci avviciniamo al gran finale, le cose si fanno ancora più intense e imprevedibili. Non voglio spoilerarvi troppo, ma vi assicuro che preparatevi a momenti che vi terranno incollati allo schermo. Sarà un mix di emozioni forti, amori, tradimenti, amicizie messe alla prova e segreti che verranno finalmente alla luce. Questa serie non smette mai di sorprenderci, vero? E proprio quando pensiamo di aver capito tutto, ecco che arriva un altro colpo di scena che ci lascia bocca aperta. Quindi tenetevi forte e preparate i popcorn, perché stiamo per entrare nel vivo della storia. Non vedo l'ora di discutere con voi di tutto quello che succederà nelle prossime puntate. Restate sintonizzati e, come sempre, grazie per essere qui con me.